violenze e femminicidi un minuto di rumore in ricordo delle vittime fino a domani 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne la facciata del palazzo del pegaso sarà illuminata di rosso il colore che simboleggia la lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne regione via libera la terza variazione di bilancio l'aula ha approvato le modifiche alla nota di aggiornamento del defre 2023 la terza variazione gli interventi normativi collegati con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione sanità il premio blsd angel 2023 presentato in consiglio regionale illustrata l'edizione 2023 del premio che si svolgerà a siena domani 25 novembre un minuto di rumore del consiglio regionale per ricordare giulia cecchettin la ragazza uccisa dal fidanzato nei giorni scorsi e per le altre donne vittime di femminicidio e al centro dell'aula sopra la bandiera col pegaso un paio di scarpe rosse e ancora il palazzo del pegaso illuminato di rosso fino a sabato 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono le iniziative simboliche attraverso le quali il consiglio regionale della toscana vuole testimoniare la ferma condanna delle violenze dei femminicidi i cui numeri continuano a crescere tragicamente e la solidarietà ai familiari delle vittime lo ha deciso l'ufficio di presidenza dopo il caso di femminicidio di giulia cecchettin la cui vicenda ha occupato le cronache dei giorni scorsi come ogni anno nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne al centro dell'aula ci sono un paio di scarpe rosse ha detto il vicepresidente del consiglio regionale stefano scaramelli aprendo i lavori un gesto significativo che vuole tenere accanto a noi giulia giulia e non solo tutte le donne che subiscono una violenza le scarpe rosse al centro della dell'aula l'illuminazione del palazzo di colore rosso sono dei segnali che noi annualmente facciamo nella settimana che ci porta al 25 di novembre quest'anno un significato particolare motivo per il quale il consiglio regionale ha voluto urlare non stare in silenzio e manifestare la propria contrarietà e manifestare tutta la propria vicinanza a tutte le donne per questo siamo stati impegnati nel ricordare accanto a noi e tenere quella sedia accanto a noi come se oggi giulia fosse presente nel nostro consiglio regionale oggi come avete visto essendo il consiglio diciamo in vicinanza del 25 novembre abbiamo simbolicamente un paio di scarpette rosse eh dentro l'aula la violenza sulle donne la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo anche se abbiamo proposte di legge eh obiettivamente il problema è un problema culturale di informazione ehm di preparazione le nuove generazioni femminili ma direi non solo femminili io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo quindi il problema è un problema obiettivamente culturale io nella mia esperienza essendo un medico di pronto soccorso sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici sono ho fatto parte del codice rosa venendo dalla provincia di Grosseto quello è stato il primo nucleo del codice rosa che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto e devo dire la verità che molto spesso specie se si parla di località più piccole magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio quello che succede più frequentemente è il maltrattamento e oserei dire che il problema comincia da lì quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi e quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella della propria compagna e le sue abitudini deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti in cui si impara dove gli uomini possano imparare a gestire in maniera diversa la loro rabbia sentiamo adesso le parole della consigliera Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia Io penso che indubbiamente siamo di fronte a un tema che è assolutamente legato alla cultura di oggi ci sono diversi ambiti secondo me dove si forma diciamo quella che è la cultura del rispetto anche nei confronti delle figure femminili la famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi onestamente quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato ho qualche dubbio perché molto spesso quella famiglia alcaica quella famiglia che rappresentava dei valori delle tradizioni che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato un tempo rappresentava forse un nucleo di valori un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare anziché come dire andare a trovare un capo ispiratorio ripeto non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento è chiaro che in un contesto in cui tutto quanto è stato relativizzato compreso la possibilità oggi di un adolescente di dichiararsi uomo o donna a seconda della sua sensibilità del giorno viviamo in un mondo in cui purtroppo anche la violenza nei confronti di una ragazza una violenza che si è manifestata in modo brutale di un giovane del quale potremmo indagare all'infinito le motivazioni ma non riusciremo mai a comprenderle fino in fondo se non guardandoci davvero intorno e interrogandoci tutti anche come genitori e anche nel momento in cui i nostri ragazzi e i nostri bambini vanno a scuola su ciò che noi riusciamo a trasmettere loro perché questa è la nostra vera sfida una sfida culturale, una sfida familiare, una sfida di recupero dei valori complessivi io credo che se facciamo tutti quanti uno sforzo al di là di quelli che possono essere gli interventi normativi forse riusciamo come dire a bloccare questa deriva e questa relativizzazione di valori perché oggi io credo che veramente è questo l'allarme più grosso che abbiamo nei confronti di tutti i nostri adolescenti ma penso anche a tutti quei bambini che vivono una dimensione di infanzia ingenua ma che fin da piccoli devono capire che all'interno dei nuclei familiari ci sono delle regole dei principi ben precisi quindi è una sfida culturale importantissima infine le parole di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia Cecchin e che parla del patriarcato perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge e nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini ma vale per tutti quanti il rispetto del prossimo il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità e soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che non, come è stato detto, non deve vedere in queste persone dei mostri delle persone che sono isolate e che quindi in qualche modo vanno contenute perché lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni ma anche come singoli questo spero che sia il messaggio che riesca a parlare e soprattutto che ogni femminicidio che accade fosse anche uno, è sempre troppo è sempre una sconfitta dell'intera società, uomini e donne Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza le modifiche alla nota di aggiornamento del DEFRE 2023 la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e gli interventi normativi collegati gli atti che sono stati integrati con un maxiemendamento presentato dalla Presidente della Giunta Eugenio Gianni sono passati con il voto favorevole di PD e Italia Viva e il voto contrario delle opposizioni respinte le proposte di risoluzione presentate dal gruppo della Lega collegate alla DEFRE ordini del giorno ed emendamenti di Fratelli d'Italia e Lega alla terza variazione di bilancio su alcuni articoli della proposta di legge 224 sugli interventi normativi collegati alla terza variazione del bilancio di previsione 2023-2025 il consigliere regionale del PD Gianni Anselmi ha deciso di astenersi sentiamo il commento del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese ovvero a fondo perduto 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura uno per rimediare a quelli che sono dissesti l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in inginere quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'endita in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere dopo aver approvato una legge regionale noi abbiamo bisogno dell'Europa è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane d'altro canto però facciamo un appello anche al governo che stanzi subito tutte le risorse che servono guardate i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni noi mettiamo subito le cifre che ho detto ma non bastano sono davvero solo risorse per l'emergenza come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti però dobbiamo fare di più e quindi chiediamo al governo che faccia velocemente la propria parte che metta tutte le risorse che servono e poi l'altro appello che voglio fare è di evitare tutta la discussione rispetto al commissario per la ricostruzione il Presidente Gianni lo stiamo vedendo in questi giorni sta gestendo in maniera positiva, molto positiva la fase emergenziale e allora al governo chiedo che il Presidente Gianni sia anche il commissario per la ricostruzione che queste risorse arrivino presto e che possa lavorare per dare risposte a tutti coloro i quali ne hanno bisogno non è il tempo delle polemiche è il tempo di lavorare tutti insieme perché cittadini e imprese hanno bisogno di risposte concrete Se una formulazione perché possano andare a questa emergenza che ha colpito la Toscana ci potesse essere è giusto che vadano in questo modo purtroppo la gestione della variazione del bilancio del Consiglio regionale e si è visto anche dal dibattito e dalla discussione aspera che c'è stato è sempre più una spartizione di quote, di cifre che viene presenti all'ufficio di Presidenza dove sono presenti tutti, persino il monocellulare Forza Italia tranne il Movimento 5 Stelle che da dieci anni viene tenuto sia dalla maggioranza che dalle opposizioni fuori dall'ufficio di Presidenza dove avvengono anche queste spartizioni La nostra contrarietà quindi sta fondamentalmente in questo merito saremo ben contenti di votare a favore se troveranno il modo di mandare interamente quel denaro ai colpiti dall'alluvione però naturalmente va fatta una considerazione generale anche per quanto riguarda quella che è la variazione di bilancio che stiamo per fare adesso Quest'anno il bilancio del Consiglio regionale avrà un avanzo di 1.700.000 euro Questo avanzo a seguito di questa variazione di bilancio l'ottava, quest'anno ci siamo anche contenuti con il numero delle variazioni del bilancio vedrà 1.300.000 euro per la parte in conto capitale 400.000 euro in spesa corrente Queste sono le due voci quindi un provvedimento di natura sostanzialmente tecnica per determinare prima che scadessero i termini come poter avere le cifre precise delle due parti si sottintende ovviamente la questione di come destinare l'avanza ed è per questo che noi siamo ancora in attesa perché è vero che dobbiamo assolutamente ricordare le straci nazifasciste dando adeguate risorse ma oggi ci viene nel cuore l'esigenza della priorità delle spese per gli alluvionati quello che ha subito la regione toscana merita una risposta immediata La variazione in questo momento prevede la semplice allocazione delle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione 2022 su un cosiddetto fondo leggi di parte corrente di parte in conto capitale la priorità che l'ufficio di presidenza si è data è quella di offrire un proprio contributo consistente a favore delle comunità colpite dall'alluvione ne studieremo poi insieme le modalità ma certamente questa rappresenta una priorità per tutti ci dispiace che qualcuno abbia preferito strumentalizzare questo passaggio facendo passare un messaggio assolutamente non vero cioè quello che non fosse una priorità per tutto l'ufficio di presidenza fare questa variazione vuol dire esattamente poter spendere soldi nella finalità nella modalità che ho detto votare contro questo atto vuol dire non mettere le risorse a disposizione beh è la terza ed ultima variazione e come ogni anno qui ci sono risorse importanti da destinare a capitoli che erano scoperti che riguardano la cultura che riguardano sociale che riguardano alcuni interventi puntuali per quanto riguarda invece i danni all'alluvione con gli emendamenti che il presidente Gianni ha presentato al documento di economia e finanza ci sono degli impegni precisi per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni residui del FESRE per quanto riguarda il fondo di sviluppo rurale quindi per le imprese artigiane, industriali e per quanto riguarda le imprese agricole c'è un impegno per quanto riguarda il ristoro anche dei danni subiti dai cittadini tutto questo è un impegno fissato nel documento di economia e finanza appunto che troverà allocazione nel prossimo bilancio eravamo pronti e ci siamo riuniti abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti essendo felici, perché noi eravamo felici del fatto che il governatore e la regione toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale e quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate questo non lo permetteremo veramente per quanto mi riguarda io faccio politica da circa 10 anni e una cosa così non mi era mai mai successa non ci ha convinto perché spulciando e studiando il bilancio ci siamo accorti che vi erano le risorse per poter fare un fondo ed integrare i 5 milioni messi dal governo nazionale quindi c'era la possibilità, c'è ancora la possibilità perché ancora purtroppo o per fortuna questo bilancio non è stato votato di integrare i 5 milioni messi dal governo nazionale siamo consapevoli che sarebbe stato stupido dire prendete tutti e 30 milioni del bilancio e mettiamo gli alluvionati l'avremmo potuto fare e fare della demagogia ma in maniera seria abbiamo studiato la modalità di farli creare un fondo parallelo a quello nazionale abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10 quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste nella prima seduta utile che era quella di oggi nella variazione al bilancio all'interno della quale poteva esserci una risposta concreta da parte della regione toscana ci siamo resi conto che le uniche risposte concrete sono quelle legate ai carnevali alle feste del grillo alle ricorrenze di paese al recupero degli edifici storici alla festa di paese alle fasce tricolori cioè a tutto ciò che riguarda la promozione la cultura il territorio la valorizzazione degli enti magari qualche taglio del nastro alla presenza del presidente Gianni ma non c'è un euro sul fatto più grave che è successo in questa regione negli ultimi 60 anni nemmeno paragonabile all'avvione in Firenze i danni sono incalcolabili lo studio dell'IRPET ci dice 2 miliardi e 100 molto probabilmente i danni saranno 4 miliardi di euro tenete conto il paragone sull'Emilia Romagna sono 8 miliardi di euro in quel distretto alluvionato c'è il 35% delle aziende della Toscana e il 40% del fatturato per quanto riguarda i nostri distretti industriali e c'è il 65% dell'export toscano delle nostre imprese la smetta al presidente Gianni di fare esclusivamente riferimento all'ordinanza 1037 dello stato di emergenza nazionale che è importante e che anche noi accanto a Gianni saremo a sollecitare che arrivino risorse da Roma le più possibili visto l'ingenza dei danni però il presidente Gianni faccia al presidente della regione e dia seguito a quel decreto che ha firmato mettendo a disposizione dei toscani di tutti i toscani quindi anche di coloro che al momento non sono ricompresi ma che per esempio a Via Reggio a Torre del Lago hanno visto ben 15 famiglie sfollate a seguito di eventi collegati al 2 di novembre solamente il giorno antecedente metta mano alla borsa della regione e dia risorse economiche come è ampiamente previsto evitando quella distribuzione a pioggia che abbiamo visto anche attraverso questa variazione di bilancio che potrebbe essere in buona parte non certo per alcune poste diciamo fondamentali ma per altre sicuramente sì potrebbe essere rimandata successivamente per cercare di invece intervenire per quelle famiglie di imprese attività che hanno ricevuto danni ancora una volta anziché per garantire le prestazioni sanitarie essenziali i famosi LEA i soldi del governo vengono utilizzati per ripianare i debiti che la regione toscana ha fatto nel passato ci sono altri 37 milioni di euro che vengono distratti dal Fondo Sanitario Nazionale e anziché utilizzati per le liste d'attesa per tutte quelle che sono le prestazioni sanitarie essenziali così come definite la legge quei soldi per 37 milioni vengono utilizzati per pagare i mutui che sono stati contratti nel passato quei soldi erano arrivati fino a 86 milioni di euro l'anno e piano piano sono ridotti ma ce ne sono ancora 37 la Corte dei Conti in linea con la sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato questa prassi illegittima e la regione toscana continua a perpetrare una prassi illegittima a danno evidentemente dei cittadini questo è quello che accade nella regione toscana ci sono poi tutta una serie di misure particolari che riguardano i singoli territori della Toscana che vanno a sostegno di comuni ed altri enti locali per interventi che vanno dalla messa in sicurezza del territorio all'edilizia scolastica fino ad arrivare ad alcuni interventi puntuali inerenti l'edilizia sanitaria a tutto ciò si deve aggiungere anche uno stanziamento di 10 milioni di euro che va ad alleggerire il fondo sanitario secondo le indicazioni della Corte dei Conti quindi una manovra che tiene conto da una parte delle esigenze generali della regione soprattutto per quanto riguarda la buona tenuta dei conti della regione stessa dall'altra parte però una manovra che non rinuncia a dare risposte concrete ai territori e al bisogno di sostegno che sempre più spesso i comuni reclamano una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione un equilibrio dei conti che è fondamentale mette in sicurezza i conti del 2023 soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati quindi una variazione di bilancio importante un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia di Italia Viva di tenere i conti in equilibrio della regione toscana si può fare senza aumentare le tasse il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani una risposta concreta credo che i cittadini se la aspettassero immediatamente come gruppo di Fratelli d'Italia abbiamo provato stiamo provando a cercare di mettere subito sul campo delle risorse importanti che possano dare una prima risposta davvero a chi oggi è in estrema difficoltà cittadini ed imprese ciò che sorprende è che diciamo ci sia stata una sostanziale fermezza nel non voler ridiscutere la variazione aggiungo nel merito che è estremamente preoccupante come questa regione stia continuando a fare un ricorso al debito all'indebitamento in modo assolutamente importante ho sottolineato come noi non solo siamo ad oggi assolutamente al di fuori di una qualsiasi programmazione organica ma come questo massiccio utilizzo dell'indebitamento possa diciamo portare ad uno stress effettivo dei conti pubblici della regione che possa poi in futuro davvero mettere a rischio anche quelli che possono essere interventi sicuramente meritevoli penso al tema dell'edilizia scolastica ma che non possiamo continuare a finanziare in modo assolutamente disorganico e a macchia di leopardo un riconoscimento per gli operatori laici che hanno contribuito con il loro lavoro e con l'utilizzo del defibrillatore a salvare vite umane in Toscana torna con l'edizione 2023 il premio BLSD Angel indetto dall'associazione Siena Cuore Onlus per far conoscere l'operato delle tante realtà esistenti nella nostra regione e sensibilizzare la cittadinanza un orgoglio per Siena e un'iniziativa che ogni anno cresce come dimensione con sempre più persone coinvolte e salvate ha detto Stefano Scaramelli vicepresidente del consiglio regionale un orgoglio di Siena di un'iniziativa che ogni anno si rinnova che cresce qui si tratta di salvare la vita alle persone e a farlo sono le persone comuni che vengono formate grazie all'azione di volontariato di un'associazione straordinaria che come Siena Cuore da anni ormai promuove l'attività di formazione a favore di altre persone cittadini che possono salvare una vita salvare la vita di una persona può cambiare la vita non soltanto di chi è salvato ma anche di chi salva e per questo che come consiglio regionale come ufficio di presidenza sosteniamo con forza questa iniziativa lo facciamo anche non soltanto promuovendo questi premi ma anche promuovendo iniziative legislative tutti ricorderanno la legge che ho avuto modo io di condurre una passata legislatura rispetto all'obbligo dell'utilizzo dei defibrillatori negli impianti sportivi altri testi di legge da me stesso sottoscritti sono oggi depositati in consiglio regionale riguarda molto la sensibilizzazione che per esempio possono avere la polizia municipale i luoghi pubblici io credo che dobbiamo crescere in questa cultura coinvolgere sempre di più il mondo degli esercenti delle professioni diffondere conoscere sono degli atti depositati che dimostrano anche l'applicazione di alcune app che possono favorire la diffusione della conoscenza della presenza dei defibrillatori un sistema integrato che con l'emergenza urgenza ovviamente fa dei cittadini degli angeli che veramente possono salvare la vita alle persone presentiamo la sesta edizione del premio BLSD Angel 2023 che ogni anno premia quei cittadini che hanno salvato altri cittadini dall'arresto cardiaco ci ha detto Iuri Gorelli presidente dell'associazione Siena Cuore Onlus oggi siamo a presentare questo sesto evento della nostra associazione che è il BLSD Angel del 2023 evento che ormai è diventato canonico e che premia tutti quei cittadini che durante l'anno hanno salvato altri cittadini dall'arresto cardiaco questo per in qualche maniera premiare chi in maniera del tutto libera e con la convinzione insomma di poter fare qualcosa di buono ha tentato di salvare la vita e in questo caso ci è riuscito l'altra cosa che facciamo quest'anno per la prima volta andiamo a premiare anche i professionisti sanitari che hanno supportato e aiutato i cittadini a salvare tentare di salvare la vita a queste persone colpite da arresto cardiaco o da ostruzione delle vie aere quindi una novità per il 2023 che in qualche maniera va a valorizzare l'importanza anche del supporto delle istituzioni verso i cittadini che provano a fare qualcosa e poi come ogni anno premeremo anche le scuole della nostra realtà che ci hanno permesso di fare corsi BLS per i ragazzi professionisti sanitari e comuni cittadini possono darsi una mano nel diffondere questa cultura della prevenzione ha detto Francesca Diana direttrice scientifica dell'associazione Siena Cuore non solo laici anche professionisti che cercano di coinvolgere laici soprattutto perché si sottolinea il loro ruolo la loro importanza nel diffondere anche questo messaggio nel meccanismo del passaparola anche perché più laici sono coinvolti e più si capisce come questo tipo di manovre sia alla portata di tutti e come la differenza possa essere fatta da chiunque proprio perché il nostro nemico è il tempo e l'unico modo per arrivare in tempo è che tutti siamo formati a sapere intervenire rapidamente su situazioni riconosciute pericolose pericolose pericolose